Sotto! Siamo con il Mist del San Mauro, Marcasatto, partita vinte per 3 a 0, partita dominata dal punto alla fine. Sì, abbiamo iniziato bene la partita, siamo partiti subito bene, trovando anche il vantaggio subito, quindi questo poi ci ha facilitato un po' la partita. Poi il raddoppio e a fine primo tempo anche le espulsioni ci hanno dato la possibilità nel secondo tempo di poter gestire bene la partita. Quindi soddisfatto dei ragazzi che hanno fatto un'ottima partita e stiamo facendo un buon campionato fino a qui. Abbiamo faticato all'inizio ma adesso stiamo riprendendoci abbastanza bene. Quindi contento per questa vittoria del gruppo e soddisfatto di tutti. Grazie. 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 Grazie.